Sono qui solo da pochi mesi ma nonostante questo ho visto questa redazione crescere molto velocemente e parlo di redazione perché questa è una redazione vera che ogni giorno lavora per darvi notizie vere non solo per farvele leggere ma soprattutto per informarvi. Cerchiamo di dare anche ampio spazio a tutte le zone di Milano e questo è un progetto non solo nostro ma anche vostro. Per questo vogliamo chiedervi una piccola mano, un piccolo contributo che per noi potrà essere fondamentale per far sì che questo progetto vada avanti e possa migliorare ogni giorno. Come dice il nostro motto una città più informata è una città più consapevole e quindi noi vogliamo continuare su questa strada e abbiamo bisogno anche del vostro aiuto.